Musica La passione di calcio, il più cordiale e buon pomeriggio dal Nino Lombardangotto di Marsala vi tele trasmettiamo una sintesi dell'incontro di calcio Sport Club Marsala 1912 San Cataldese Prima della classe contro la seconda Il Marsala si schiera con il seguente 11 Tarantino, Crimi, Solina, Alagna, Perdicizi, Villafranca, Aiello, Marino, Alberti, Erice, Baiata Indisponibile, Vitale Allenatore Marcello Manca La San Cataldese risponde con Siciliano, Draga, Caparezza, Fiacaprile, Sciacca, Milanese, Brancacci, Quagliaro, Tabasso, Menescalco, Satta Allenatore Torre Grossi Sport Club Marsala 1912 davanti a un pubblico numerosissimo, circa 800 unità per la categoria e molto vuole vincere questo incontro per portarsi primo in classifica Grande festa coreografica Grazie all'interessamento dei capi ultra per eccellenza Vincenzo Rubino e Pino D'Amico Mentre vedete inquadrati dal nostro cameraman anche i supporters della San Cataldese assiepati in curva E' tutto pronto per l'inizio del match Squadre che si riscaldano, nel frattempo vi ricordo che la voce che state ascoltando è quella di Nicola Donato Con TeleDNT, collegatevi sullo sito www.scmarsala1912.it il sito dei tifosi azzurri Manovra articolata dello Sport Club Marsala 1912 che cerca di trovare il bandolo della matassa San Cataldese chiusa nella propria metà campo Ancora la compagina azzurra che staziona sulla fascia destra rispetto alle nostre telecamere Il pallone termina sul fondo, sarà calcio all'angolo Grande presenza di pubblico oggi al Nino Lombardangotta per sostenere la squadra del cuore Che vincendo questa partita si porterebbe solitaria al comando della classifica del campionato di promozione Ancora Marsala in avanti, sempre sulla fascia destra Pallone servito verso Alagna che serve abilmente l'indisturbato Baiata che deposita il pallone in rete Sport Club Marsala 1912 in vantaggio Grande azione Alagna, Baiata Grande azione Alagna, Baiata Il direttore di gara, certo non è stato immoccabile Però il Marsala lo è stato Giocando alla grande, dimostrando di avere fuori E' una malattitosa però E' una malattitosa però Capolista, siamo la capolista Siamo la capolista Termina con grande festa degli sportivi azzurri qui al Nino Lombardangotta per la vittoria E' quindi il conseguimento del primo posto in classifica dello Sport Club Marsala 1912 Nicola Donato, TeleDNT e soprattutto www.scmarsala1912 Il sito dei tifosi azzurri Vi ringraziano e vi salutano e vi rimandano alle prossime occasioni Forza Marsala 1912 Sport Club